Marostica, soste gratis per Natale tutti i sabato del mese di dicembre, il giorno della vigilia, i parcheggi di Viale Rimembranza a 4 novembre e Viale Stazione non saranno a pagamento. Come è successo in altre città, si tratta di un accordo tra comune e attività produttive e commerciali per incentivare lo shopping natalizio nel cuore di Marostica. Verrà inoltre aumentata da 20 minuti a un'ora la sosta gratuita fuori dalle mura nelle aree di Viale Rimembranza e 4 novembre all'ex opificio da lunedì al sabato. Introdotte nelle stesse aree nel parcheggio di Viale Stazione due nuove forme di abbonamento a tariffa agevolata.